Mi chiamo Max, Max Malatesta, 41 anni, attore, romano e mezzo austriaco. Per lavoro viaggio molto, 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 però quando torni a Roma sei molto felice di essere tornato a casa perché Roma è unica. Da sette anni ho cominciato a insegnare recitazione e nell'ultimo anno ho assunto la direzione artistica del Beat Generation, una scuola dove noi insegniamo ai giovani danza, musica, canto, recitazione e da quest'anno fotografia. Ma io come attore osservo molto le persone, ho cominciato a osservarle con l'anima, quindi guardare i dettagli, i segreti che le persone hanno e poi a un certo punto ho avuto la necessità di fotografare, di fermare, anche perché volevo provare a me stesso che esiste sempre un punto di vista che è bello, che è interessante. C'è sempre un modo per vedere la persona in un bel modo e uno di questi punti di vista è il migliore. La vita sorprende sempre, quindi tu devi essere pronto. Quando poi c'è una bella luce, c'è un'atmosfera particolare, tu magari ti apposti come un pescatore, un cacciatore e poi senti che qualcosa può accadere. Passa una bella donna con la bicicletta, arriva una volata di vento, si alza la gonna magari e tu sei lì pronto per prenderla. Ecco, lì dar molta soddisfazione. Ecco, un pochino saper prevedere l'imprevedibile. Nella vita per me sono importanti due cose, l'amicizia e l'amore. Che cosa sarebbe la mia gioia, la mia storia, la mia vita se non lo posso raccontare a nessuno?